beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni ma se quel servo malvagio dice in cor suo il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e mangia e beve con gli ubriaconi il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta nell'ora che non sa e lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti vangelo secondo matteo capitolo 24 versi 46 a 51 Grazie a tutti! Grazie a tutti!